La sentenza di Garlascola, girandola dei sospetti, abbiamo anche il commento di Feltre e Laparietti, cuccioli e padroni, l'incidente stradale, la dieta dei ciccioli e vacanze di Natale. Buongiorno, ci sono persone, persone pubbliche, in questo caso politici, ma non soltanto politici, persone pubbliche direi, che si conoscono da anni e però ogni volta sorprendono, sorprendono un po' per le scelte, per le cose che dicono, per quello che mostrano di pensare e di capire. Una di queste che spesso prende questo tipo di iniziative, che lasciano un po' con la voglia di capire di più, è Roberto Maroni. Roberto Maroni è mio ospite e io sono rimasto molto incuriosito da questa sua intervista che ho letto sul Corriere della Sera, perché io non mi ero dimenticato dell'esistenza di Roberto Maroni, fa l'avvocato, è avvocato e fa l'avvocato. Nessuno lo dimentica, esatto. Nessuno dimentica Roberto Maroni, però sentirlo in un'intervista, riparlare della politica che è stata, che ha fatto Ministro degli Interni, Presidente della Regione Lombardia, la più importante regione d'Italia, insomma, e poi tanti altri incarichi politici e anche istituzionali. Allora, sentirlo parlare dopo un po' del suo futuro, come se fosse un futuro possibile, è un futuro di comunque affezione alla politica. Adesso io non voglio parlare di ritorno alla politica, io voglio parlare di affezione alla politica, di interesse per la politica. e mi ha colpito e ho detto adesso voglio farlo parlare e chiedevi tutto quello che ha da dire, di viso, di faccia, perché una cosa è fare un'intervista e una cosa è stare lì con la propria faccia e dire io sono qui, la mia faccia è questa, mi credete o non mi credete? Allora Maroni, questa idea della politica rilanciata in un'intervista, che idea è? La politica è passione innanzitutto, chi fa politica lo fa come la faccio io da tanti tanti anni per risolvere i problemi dei cittadini, del mondo delle imprese e oggi c'è bisogno di una politica con la P maiuscola, perché abbiamo di fronte un nemico ancora praticamente sconosciuto, il Covid, e le reazioni della politica di chi ci governa a tutti i livelli, non accuso nessuno, mi paiono piuttosto deludenti. Sono stato in questo weekend al Forum Ambrosetti di Cernobbio con una platea di imprenditori che erano molto perplessi, piuttosto sfiduciati, con la voglia di fare, però le domande, le richieste fatte ai tanti ministri che sono venute, spesso sono domande rimaste senza risposta. È evidente ed è chiaro che in un momento di crisi così drammatica non ci sono risposte facili, però quello che io sento, data la mia esperienza di crisi precedenti, non gravi come questa forse, ma ne ho vissute tante, è che ci manca davvero la paura di prendere decisioni forti, importanti, che abbiano una prospettiva non solo di oggi o domani, di qualche laica sui social, ma di risolvere davvero il problema. Secondo me manca questa dimensione davvero che io ho vissuto, che ho conosciuto in tanti anni nei governi Berlusconi, col Presidente Berlusconi. Tutto qua, è stata un'intervista in cui ho voluto sottolineare questo e la necessità di un ritorno della politica con la P maiuscola, cioè della capacità di darsi una strategia, di negoziare, di trovare soluzioni e di ascoltare. Questo manca oggi alla politica, la capacità di ascoltare. Detto questo, io faccio l'avvocato, sono contento di questa mia attività, di questa mia terza vita, però la politica rimane una passione, ovviamente, come la fede calcistica, come per il Milan. E certo, visto che l'ha citato lei, ne approfitto, ma sono sicuro che siamo d'accordissimo, come lo sono stato già prima anche con Salvini qualche giorno fa, nel fare gli auguri a Silvio Berlusconi, che sta battendosi con un... Eh, ci mancava solo il Covid, ecco. A me mi è venuta in mente questa cosa qua e a lei pure, perché alcune delle crisi più, diciamo, drammatiche, più brutte, l'ha vissuta proprio in quel contesto, al fianco di Berlusconi, nel governo o fuori dal governo, e ci mancava solo il Covid. Si sta battendo, naturalmente, col solito piglio da leone, contro un male terribile, che per fortuna sembrano riuscire ancora ad aggredirlo, ecco, che stanno lì, sento i bollettini, facciamo i nostri auguri, di più non possiamo fare... Gli mando un abbraccio affettuoso virtuale, assolutamente virtuale, perché con lui davvero ne ho vissute tante di crisi, come diceva lei, direttore. Ricordo una che è sempre d'attualità, in tema di immigrazione, la cosiddetta primavera araba all'inizio del 2011, quando in tre mesi arrivarono 40.000 immigrati clandestini, 40.000, non 4.000, e io mi trovai con l'Europa, che proprio non ci dava nessunissimo aiuto, e con la Lega, anche molti leghisti che mi guardavano, ma come adesso, muoviti, dai, cosa fai? E una persona che ho avuto sempre al mio fianco è stato proprio Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio, quindi non dimentico io queste affinità elettive. Sì, è chiaro che quella è stata un momento bruttissimo, ma proprio a questi temi volevo tornare, perché abbiamo di fronte il Covid, e lei ha già detto una frase che io potrei sottoscrivere, con la politica sarà più facile sconfiggerlo, solo con formule mediche o con formule di antivirali, non sarà facile sconfiggerlo, soprattutto nella coscienza delle persone, perché sono cambiate moltissime abitudini, adesso non le sto ad elencare, penso che anche lei viva oggi in un modo, come pure io, che non c'ha nulla a che vedere con un anno fa, nulla, nelle piccole cose è una cosa incredibile. Però parliamo di quella crisi dell'immigrazione, perché noi ce l'abbiamo ancora davanti il problema, ma oggi è anche aumentato con la questione del Covid. Lei nell'intervista si è mostrato molto aperto, molto solidale anche nei confronti di Matteo Salvini. L'ho letta l'intervista, non c'è nessuna punta polemica, c'è invece una punta anche di riconoscenza per un passato in cui diceva Salvini mi ha tirato fuori da una situazione stagnante. In questo caso dell'immigrazione, qua vede che c'è una linea abbastanza di demarcazione, le voglio far dire la sua. Non è facile risolvere la questione, il problema, c'è un vizio di fondo in tutto il sistema, e cioè che il controllo dell'immigrazione, il controllo dei confini, non è di competenza della Commissione europea, ma dei singoli stati membri. Quindi tutti gli immigrati che arrivano in Italia, ma perché vogliono andarsene in giro in altri paesi d'Europa, arrivano in Italia perché l'Italia è la più vicina. Lampedusa è più vicina alla Tunisia che non alla Sicilia. Ecco, il fatto che l'Unione europea non abbia questa competenza, lascia gli stati membri a se stessi. Ricordo nel 2011, appunto, la primavera araba a febbraio, quando arrivavano in massa decine di migliaia, ogni settimana io andai in Europa, ero ministro dell'interno a un Consiglio europeo, e dissi c'è un'emergenza con i numeri. E molti ministri mi risposero ma no, non c'è un'emergenza, se ci fosse comunque devi gestirla tu, devi gestirla l'Italia. Questo è il vizio di fondo che impedisce la solidarietà europea anche nel confronto dei paesi del Maghreb, dei paesi africani. Quali soluzioni ci sono? Ce n'è una sola, impedire che partano queste barche, questi barconi o questi barchini, impedire che partano, perché una volta che partano dalle coste della Tunisia ed entrano nelle acque territoriali italiane non si può fare altro che prenderli, verificare se hanno le condizioni per stare in Italia, in Europa e se no rimandarli a casa. Ed è quello che io ho fatto, io feci nel 2011 andando in Tunisia facendo un accordo col governo tunisino assieme a Silvio Berlusconi che da luglio del 2011 bloccò gli arrivi. Ed è quello che è stato fatto anche recentemente, lo voglio riconoscere, dalla Ministra Luciana Lamorgese perché è andata anche lei in Tunisia e con una novità, per la prima volta è riuscita a portare in Tunisia due commissari europei. Io non c'ero riuscito onestamente, non avevano voluto venire. Lei ha portato due commissari europei. Da qui la speranza che io nutro che si risolva finalmente il problema con un impegno dell'Unione Europea, di tutti i paesi europei per creare le condizioni perché non ci siano le partenze. Questo è l'unico modo per risolvere il problema. Sì, è anche interessante quello che ha detto con una visione un po' larga che non è solo stretta sull'emergenza italiana. perché i nostri rapporti, i rapporti dell'Europa con noi, nonostante in questi anni noi abbiamo sempre detto quasi le stesse cose nei confronti dell'Europa, Europa matrigna, Europa egoista, Europa che non ci aiuta, sono molto cambiati da quegli anni. Negli ultimi nove anni sono molto cambiati, non sono risolti i problemi, per carità. Però lei è testimone che sono molto cambiati, ce l'ha detto adesso dei due commissari che prima non sarebbero mai venuti. Io noto alcuni cambiamenti. L'altro giorno notavo, pensando per fatti miei sui giornali, che la signora Merkel prima ha dato una risposta secca ad Obama proprio ai tempi della primavera araba quando si è accorta che erano spiati gli alleati, gli stati alleati, e si è accorta di essere spiata in Germania e ha dato una risposta molto secca. hanno dovuto smettere con quella cosa dell'ascolto e anche dei segreti industriali, perché non servivano soltanto quelle operazioni all'antiterrorismo. E ora ha dato un'altra risposta a Putin, abbastanza secca, abbastanza forte. Allora ho pensato, ma comunque qua siamo di fronte, se vogliamo, a una riaffermazione di sovranità in qualche modo. Questo non lo puoi fare, questo non lo puoi fare. Poi avranno torto, avranno ragione, ma non mi è sembrata insomma una persona morbida, no? No, ha ragione direttore. Io sono ottimista di natura e quindi vedo positivamente questa nuova iniziativa dell'Unione Europea. Però detto questo, c'è ancora tanta strada da fare, perché l'Unione Europea non esiste come federazione, non ha gli stessi poteri che ha il governo americano, per esempio, perché è la somma di tanti stati membri. Ha citato la Merkel, ecco, nel rapporto con la Russia dovrebbe essere l'Unione Europea a farsi sentire. Abbiamo anche un commissario, avevamo avuto noi un commissario, si ricorderà, la Mogherini, responsabile della politica estera dell'Unione Europea, ma non ha spazio, non ha spazio. Agiscono i singoli capi di Stato. Questo è un passo ulteriore da fare, bisognerebbe farlo, per creare la federazione europea. Il governo europeo, la Commissione europea, è l'unico governo al mondo che non viene eletto da nessuno. C'è un ministro, un commissario europeo, per ognuno dei 27 Stati membri, non perché servano 27 deleghe, ma perché è così. Quindi c'è molta burocrazia, addirittura più di quella che c'è in Italia. Ma questa è davvero l'occasione, anzi due occasioni. La prima, il Covid, la battaglia contro la pandemia, che dovrebbe vedere la Commissione europea protagonista, lo è già con il recovery fund, ma ancora di più. E secondo, una cosa di cui non si parla moltissimo, almeno in Europa, che è lo scontro, il confronto che c'è tra Stati Uniti e Cina, sul tema per esempio della cyber security, del 5G. Questo che è uno scontro più commerciale che è legato alla sicurezza delle trasmissioni, e lo dico da ex ministro dell'Interno, è un po' ci capisco, è più commerciale. E purtroppo l'Europa è immobile. E questo scontro qui che porterà qualcuno che vince, qualcuno che perde, qualcuno che ne avrà grandi vantaggi, noi siamo assenti. Invece l'Europa dovrebbe giocare un ruolo molto importante. E se non l'Europa, almeno il governo italiano. Qui sì, potrebbe prendere posizione in questa disputa, perché ci sono interessi enormi in ballo e a maggior ragione nel dopo Covid, nella crisi che c'è, questi interessi legati alle comunicazioni, legati al 5G, legati al futuro, dell'Ettere, devono essere prese in considerazione. Qualche cosa si muove, forse, perché si parla in questi giorni della rete unica, del progetto di costruire una rete unica. però manca ancora quel passo ulteriore a livello internazionale che l'Europa potrebbe fare mettendosi in mezzo tra Stati Uniti e Cina, gestendo questa crisi e avvantaggiando quindi le industrie europee del settore. Molto chiaro, sono anche d'accordo, perché andare alla spicciolata a fare delle trattative, a svendere con i cinesi è pericolosissimo. È pericolosissimo perché si parla del Mediterraneo, dei porti, ma lei lo sa benissimo. Però voglio tornare sulla sua passione per la politica e il suo rapporto con la Lega, perché in questa intervista traspariva chiaro che lei dice io non sono mai uscito dalla Lega. Ci sono state considerazioni che mi hanno spinto a non ricandidarmi più, per esempio, per la regione Lombardia e a fare il mio mestiere. Però, se dovessi tornare in politica, credo di aver capito, lei tornerebbe lì, tornerebbe in quell'ambito, quella è la sua casa, insomma, no? La mia casa è la Lega quella che abbiamo fondato gli ebossi, la Lega Lombarda, la Lega Nord, che aveva una connotazione molto forte che adesso la Lega di Salvini non ha e c'è una connotazione territoriale. La questione settentrionale che era la nostra bandiera che è tutt'altro che sparita, è stata un po' ammainata, ma il rischio io vedo questo rischio che qualcun altro se la prenda. Ho letto il libro di Stefano Bonaccini che ha appena pubblicato Come si batte la destra perché racconta la sua storia della vittoria in Emilia Romagna e Bonaccini ha detto in questi giorni delle cose molto forti sul Nord, bisogna che il Nord riparta al Partito Democratico e deve tornare a parlare con gli operatori del Nord. Questa continua citazione del Nord sembrano discorsi fatti dalla Lega di un tempo e credo che questo spazio ci sia ancora. Non dico che Salvini ha abbandonato il Nord assolutamente, anzi ha fatto una cosa straordinaria perché è riuscito a portare la Lega da 4 al 30%. Io dico che mi auguro che tutti i temi che sono stati i temi della Prima Lega non vengano abbandonati ma vengano anzi ripresi. L'opportunità c'è perché le regioni del Nord sono tranne l'Emilia Romagna governate tutte da esponenti di centrodestra adesso Zaya si appresta a rivincere Totti lo stesso quindi lo spazio c'è. Ecco vorrei che questo tema ritornasse fuori e lo dico anche perché sono direttamente coinvolto si ricorderà direttore che io e Zaya facciamo nel 2017 un referendum sull'autonomia differenziata questo tema che è ancora lì appeso io sono stato chiamato dal Ministro Boccia a far parte della Commissione sull'autonomia differenziata ecco mi piacerebbe davvero che la politica riuscisse a dare finalmente una risposta seria convincente per le regioni del Nord al tema dell'autonomia differenziata se questa sarà una battaglia da fare per la politica la farò volentieri non chiedo ruoli istituzionali non chiedo poltrone non chiedo niente ho già avuto anzi ringrazio naturalmente Bossi la Lega Berlusconi per le esperienze salordinarie che mi hanno però questa battaglia qui sull'autonomia la sento davvero come una battaglia molto interessante da fare con convinzione e forse questa battaglia dell'autonomia dà più peso a quello che però c'è già perché le quattro grandi regioni del Nord più del Nord Piemonte Lombardia Veneto ma anche la Liguria sono comunque governate da una coalizione in cui è forte la Lega determinante la Lega presente la Lega quindi rimane quel terreno però è vero quello che dice lei che io ho sentito io faccio l'osservatore il cronista e sono anche molto curioso chiedo domande e lei l'avrà sentito ancora più di me molti leghisti della primora diciamo dirigenti diciamo amministratori soprattutto politici lei conosce benissimo anche di persona vanno a Roma tornano e mi dicono a cena magari ma qui non parlano più io sento parlare dialetti tutti romani del sud adesso non c'è niente di male anche io parlo un po' romano perché sono nato a Roma però sentirlo da loro è come se sentissi un ritornello pericoloso credo che lei l'abbia sentito pure no? è vero? sì dice questi si infilano questi sono quelli che si infilano questi poi ci mangiano i principi le cose io spero di no però il rischio evidentemente c'è conosco bene per averlo fatto da ministro l'attività nelle regioni del sud le conosco bene lì c'è un modo diverso di approcciarsi alla politica rispetto a quello che abbiamo noi davvero la speranza è che la bandiera del nord non venga mai nata ma sia solo sia rimasta su con l'aggiunta delle altre ecco perché vorrei evitare davvero che il nord comincia a farsene carico qualcun altro appunto il presidente della regione Emilia Romagna che parla di questi temi ed è l'unico che io ho sentito in queste settimane parlare della questione settentrionale assieme naturalmente al presidente di Confindustria a Bonomi non per il nord ma perché le imprese del nord sono in grave difficoltà il nord è il motore vero dell'Europa ecco aiutare il nord soprattutto dopo questa pandemia vuol dire aiutare l'Italia questa è la questione vera non bisogna pensare che dare risorse e autonomia al nord significa penalizzare le regioni del sud è esattamente il contrario l'ha detto anche il presidente Conte a Cernobbio non con l'entusiasmo che io mi sarei aspettato però insomma lui è fatto così pur essendo un avvocato come me è un po' più democristiano ecco mettiamola così però ecco questo è un tema che secondo me deve non solo deve essere riportato all'attenzione ma sarà riportato all'attenzione non appena finiranno le misure straordinarie tipo quella dei divieti di licenziamenti che finisce mi pare alla fine di ottobre poi che cosa succederà alle centinaia di migliaia di piccole e medie imprese della Lombardia del Veneto del Piemonte che non avranno più il fatturato che non avranno più gli ordini non hanno le spalle larghe o l'appoggio o l'aiuto delle banche come le grandi multinazionali e lì ci vuole davvero un aiuto concreto da parte del governo un'attenzione concreta da parte del governo che deve essere specifica per i territori del nord questo io penso se io ho capito bene lei sta dipingendo una situazione e dando non un consiglio ma insomma mettendo al centro uno scenario la situazione che sta dipingendo della Lega è che Salvini è stato bravissimo finora Salvini è stato bravissimo è cresciuta la Lega e sono cresciute le istanze che la Lega ha portato avanti assieme al centro-destra però il punto che gli ha messo di fronte che è quello di cui stava parlando adesso è questo seguente punto o si riesce in qualche modo a orientare queste risorse che pure arriveranno che pure ci sono per la ripresa in una certa direzione sulle imprese sulle imprese del nord sulle imprese che possono fare da motore al resto dell'economia italiana oppure ci può stare anche una stasi o una sconfitta è così è così la misura principale a sostegno delle imprese è quella di abbassare la pressione fiscale o addirittura sospendere i pagamenti delle imposte per un anno o due è un aiuto straordinario che si può fare ma che purtroppo non si farà perché l'ha detto chiaramente il Presidente Conte e Cernobbio queste risorse non saranno destinate alla diminuzione delle imposte è un peccato perché rischiano di finire poi nei mille rivoli dell'assistenzialismo come abbiamo visto in tanti anni negli anni 80 90 e non solo l'assistenzialismo è spesa corrente non produce ricchezza bisogna fare investimenti gli investimenti si fanno sul mondo produttivo fare un investimento vuol dire creare posti di lavoro rafforzare le imprese rafforzare la competitività delle imprese purtroppo sono un po' pessimista su questo vedo un barlume di speranza una lucina interessante che è il ruolo questo sì devo riconoscerlo è una decisione utile importante del governo il ruolo importante che il governo ha dato a Cassa Depositi e Pagli Prestiti come ente che può investire che può portare risorse che può partecipare a progetti importanti a sostegno delle imprese anche entrando direttamente nel capitale ma soprattutto sostenendo le imprese nella loro attività di export in giro per il mondo e anche per questo ritorno al tema che ho detto prima la Cina dovrebbe essere un interlocutore straordinario potrebbe esserlo per l'Italia perché oltre alle imprese che ci sono giù è un mercato enorme e allora qui l'Italia il ministro Di Maio ci ho parlato era anche lui a Cernobbio abbiamo parlato anche di questo e gli ho detto ma la Cina è un'opportunità straordinaria non è che se trattiamo con la Cina diventiamo nemici degli Stati Uniti questo magari lo dice Trump che è in campagna elettorale ma prima di tutto dobbiamo fare gli interessi del nostro mondo produttivo delle nostre imprese e la Cina è davvero un potenziale un mercato potenziale straordinario in questo cassa depositi e prestiti è la leva che il governo ha in mano davvero molto molto efficace dunque l'avvocato Maroni riparte in politica dalle autonomie regionali e da questa possibilità di accordi internazionali in cui l'Italia si deve muovere con più velocità passando per l'Europa questi sono i due temi su cui si muoverà se io penso è inutile che le dico dove come vuole ripartire candidarsi lei ci ha dato due temi e credo che su questi la ritroveremo e quando ci ritroveremo come fu per quel referendum naturalmente ne riparleremo grazie va bene direttore grazie grazie direttore grazie di questo colloquio e Roberto Maroni ha detto le cose che lui aveva anticipato e mi sembra con una certa chiarezza finisce qua fatti e misfatti lasciamo la linea poi al TG Com grazie